Alla domanda quali sono i vostri programmi per il giorno di Pasqua, i sulmonesi hanno risposto restiamo a casa, con questa crisi dove possiamo andare? Certo rimanere a Sulmone in occasione delle celebrazioni pasquali fa piacere un po' a tutti. Il fascino delle tradizioni secolari che contraddistinguono il capologo Peligno non solo non provoca un alto tasso di evasione, ma richiama anche un notevole flusso di presenza turistica proprio a Sulmona. Se dunque i sulmonesi dall'alto sono rallegrati perché la Pasqua resta l'evento più atteso dell'anno, dall'altro debbono combattere con i soliti problemi. Non ci sarà molto sulle nostre tavole domenica prossima, dicono, quest'anno non possiamo permetterci grandi cose, pensiamo ai nostri figli che non hanno lavoro e siamo profondamente ancosciati. Quali sono i motivi di questo dispiacere, questo malcondendo che si avverte? Problemi economici, il lavoro per mio figlio che vorrebbe aiutarmi per tirare questo e vorrei che questa Pasqua avesse un po' più di cuore di umanità come lui ci ha insegnato. Una situazione che in perfetta sintonia con un sondaggio effettuato dalla Col di Retti, più di otto italiani su dieci trascorreranno tra le mure domestiche la Pasqua, che si classifica tra le più casalinghe degli ultimi decenni per effetto della crisi che taglia le partenze ma riduce anche la spesa per imbandire la tavola con i prodotti simbolo della ricorrenza. E quando emerge dall'analisi della Col di Retti, della quale si evidenza che il 24% degli italiani non acquisterà quest'anno uova o colombe industriali o artigianali, mentre si prevede un ritorno al fai-da-tè casalingo che non si registrava dal dopoguerra per ben 5 milioni di italiani. Dati sconcertanti che in ogni caso devono portare a una riflessione. Si può ridurre la Pasqua alle cose? Per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra rubrica sociale Un Occhio per Tutti, che entra in onda questa sera sulla nostra emittente a partire dalle ore 21 e 30.